Ciao ragazzi, ho appena finito l'allenamento da Corey Beasley, sabato mattina, l'ultimo allenamento dove si è spinto veramente tanto, sono in una grandissima forma, contentissimo della forma raggiunta, volevo aggiornarvi un po' sul peso, stamattina mi sono svegliato a 90.5, quasi 91 kg, poco meno, quindi sono in perfetta linea di marcia, la settimana prossima scenderò ancora un paio di libere, un paio di etti e poi nulla, praticamente sarà tutto acqua prima del peso, tra le cose la UFC ha cambiato anche la formativa, c'è la normativa del taglio peso e quindi mi peserò alle 8 di mattina, tra le 8 e le 10, sarà un aiuto per i fighter insomma, e nulla, volevo ringraziarvi per il supporto e vi ricordo che abbiamo appena aperto il sito marionvettori.com, quindi vi invito a visitarlo, in cui anche lanterò un blog giornaliero in cui vi aggiornerò, e niente, grazie del supporto ancora di Vettori, la grande!